Il 6 gennaio 2023 torna il ciclocross nazionale a Bibbiena in provincia di Arezzo con il quarto trofeo ciclocross MTB Casentino. Una location d'eccezione Bibbiena. Nei pressi del centro commerciale Casentino si sta allestendo il tracciato di 2,5 km. Un percorso spettacolare con tutte le peculiarità che la specialità del ciclocross richiede. Sarà una grande sfida per gli atleti e sarà uno spettacolo per il pubblico presente che potrà facilmente raggiungere tutti i punti del percorso. La gara è aperta alle categorie giovanili, agonistiche e amatoriali e assegnerà le maglie di campione regionale, maschile e femminile della categoria esordienti del primo anno. Il trofeo ciclocross MTB Casentino è valido inoltre come sesta ed ultima prova del trofeo T-Cross Toscana. Ciclocross durante le premiazioni finali saranno assegnate le maglie ai vincitori di ogni categoria d'appartenenza. Venerdì 6 gennaio il Casentino e Bibbiena protagonisti del ciclocross nazionale con il quarto trofeo ciclocross MTB Casentino. E ricordate l'appuntamento in tv su Bike da mercoledì 11 gennaio.